Allora eccoci qua con mister Corradi dell'Arenzano, esordio stagionale in Coppa Liguria nell'andata in casa contro una no promossa al Celevarazzo, una no promossa però molto forte che ha fatto una gran campagna acquisti la partita è terminata 1-1, si è visto da fuori un grandissimo primo tempo dell'Arenzano anche un buon inizio a secondo tempo, poi nel finale è uscita maggiormente la forza dell'avversario e la partita è finita 1-1 Hai detto tutto a te, mi fermo, è così, la prima partita il risultato è importante ma relativo quello che ho preso da questa partita sono spunti importanti, siamo partiti col piede giusto abbiamo dimostrato che se ci siamo con la testa possiamo stare dietro anche a Corradi e comunque dargli fastidio se alziamo il ritmo e siamo aggressivi li mettiamo in difficoltà quando ovviamente per adesso non abbiamo ancora i 90 minuti quando cali fai fatica, poi loro hanno tanti cambi di qualità e sicuramente incidono sul risultato della partita però io ho visto anche un gran bel Varazze, allenato bene, che corrono, quindi è una squadra importante costruita bene, allenato bene e quindi aver pareggiato oggi facendo anche un ottimo primo tempo e come dicevi te buona parte del secondo sono spunti importanti ma anche quando ci siamo abbassati, a me sono piaciuti tanti ragazzi perché hanno lottato, hanno difeso non hanno lasciato troppa occasione se non quella lì dal gol che batta, è un amico, mi fa sempre il gol ed è giusto che sia così però abbiamo spazi anche per ripartire in quel momento e noi li abbiamo sfruttati bene se c'è qualcosa che mi posso un po' rammaricare è quello che sulle ripartenze e potevamo farli anche male però il pareggio è sostanzialmente un pareggio giusto e per quanto riguarda appunto questi ottavi non è ancora finita perché c'è il ritorno domenica prossima che sarà una partita apertissima di Acello tra pochi giorni siamo di nuovo in campo contro di loro e ci risvideremo vi gioterete la qualificazione entrambe, benissimo